Queste sono le pellicole uscite nel 2023 che per un motivo o per l'altro non ho ancora visto. Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono quel tipo di persona che se non va al cinema almeno una volta alla settimana sta male. E più o meno al cinema vado a vedere un po' di tutto. Dai film commerciali di intrattenimento ai film seri da festival. E il mio più grande problema è il fatto che io vivo in una provincia dove i cinema più vicini stanno in altre province più o meno sono 15-20 km di distanza e spesso propongono film di intrattenimento e tanti film di merda. E invece tra lasciando i multisala i cinema che propongono di tutto dalle pellicole di intrattenimento ai film più ricercati, più da autore di solito stanno a Napoli in città ed è parecchio complicato raggiungerli purtroppo. E quindi principalmente questo è il mio più grande problema il fatto di non avere un cinema che proponga un po' di tutto vicino a casa mia. E per questa ragione non sono riuscito a vedere questi film. Ma prima di continuare vi ricordo di lasciare un bel pollice in su e soprattutto di iscrivervi al canale e attivare la campanella così da rimanere sempre aggiornati per le prossime uscite. Primo film, Boa Paura L'ultima fatica di Harry Aster con protagonista Joaquin Phoenix. In verità di Harry Aster dovrei recuperare ancora un po' di tutto perché Midsommar ancora non l'ho visto e Hereditary l'ho visto, mi ricordo che mi era piaciuto ma non me lo ricordo tanto bene. Quindi vabbè, buon proposito per quest'anno recuperare un po' tutto Harry Aster. Secondo film, Bussano la Porta L'ultimo lavoro di M.N.C. Shaman regista di filmetti del cazzo come Il Sesto Senso Unbreakable Split Glass e che è tornato nel 2023 con Bussano la Porta. E tra gli attori che spiccano in questo film c'è Dave Battista. Se devo essere sincero il vero motivo per cui non ho visto questo film è perché ero abbastanza scettico cioè l'avrei comunque voluto vedere però non gli ho dato così tanta importanza e da quello che ho sentito dai vari recensori come Federico Frusciante è un gran bel film quindi appena ne avrò l'occasione lo recupererò. Terzo film Rapito Film diretto da Marco Bellocchio che parla del caso di Edgar Mortara uno dei casi più controversi e famosi dell'Europa di metà 800. Mannaggia il demonio mi dispiace veramente un sacco ne non aver visto questo film al cinema purtroppo era il periodo in cui ero incasinato di più con il mio lavoro quindi non sono riuscito a vederlo proprio per mancanza di tempo. Quarto film L'ultima notte d'amore sì un altro film italiano un poliziesco diretto da Andrea Di Stefano con protagonista Pierfrancesco Favino sempre con Favino invece quest'anno ho recuperato Adagio film diretto da Stefano Sollima o Sollima come si dice? Sollima o Sollima? Vabbè Adagio per me è uno dei migliori film del 2023 veramente un gran bel film e da quello che ho sentito anche questo ultimo notte d'amore è un bel prodotto quindi per quest'anno il buon vecchio Favino si è portato a casa due bei filmoni Adagio Favino Quinto film The Palace l'ultimo film diretto da Roman Polanski e praticamente questo film lo hanno massacrato tutti tutti a definirlo un film di merda un film del cazzo non lo so io sinceramente dubito che sia un film di merda perché non credo che Roman Polanski possa fare oggettivamente un film di merda che tu dici no wow la diretta Roman Polanski che merda non credo che sia questo il caso io vorrei recuperarlo il più presto possibile perché voglio vedere se la gente effettivamente ha ragione oppure come ed educo io la gente non sa di che cazzo parla e ogni volta sparano delle stronzate gigantesche nelle ultime pellicole di grandi autori un po' come è successo con Wes Anderson in questo 2023 con Asteroid City tutti a dire eh ma Wes Anderson ormai non è più in forma eh ma Wes Anderson non ha sbagliato il suo passo falso eh ma non è così bello invece secondo me è un filmone incredibile è uno dei migliori film del 2023 e la gente non sa di che cazzo parla ecco sesto film Anatomia di una caduta film francese diretto da Justin Tritt nel caso ho pronunciato male il nome scusate non lo so pronunciare è vincitore del settantesimo festival di Cannes ecco questo è l'esempio principe di film da autore o da festival che nei cinema di provincia non verranno mai distribuiti e se lo vuoi andare a vedere ci sono i cinema che stanno in città e arrivare lì purtroppo è un casino quindi questo è il principale motivo per cui non sono riuscito a vedere questo film ma appena uscirò in streaming o in blu-ray vedrò di recuperarlo assolutamente settimo film una sterminata domenica oh quest'anno sono usciti un sacco di film italiani interessanti ottimo film diretto da Alain Parroni al suo esordio alla regia di un lungometraggio e il film è stato presentato in anteprima nella sezione orizzonti all'ottantesimo festival di Venezia e basta in verità di questo film non so veramente niente l'unica altra cosa che so di più è che uno dei produttori è Vin Vendors e quindi vedrò questo film non sapendo cosa aspettarmi e devo dire che questa cosa mi piace veramente assai ottava pellicola Il male non esiste film giapponese diretto da Ryusuke Hamaguchi anche questo presentato all'ottantesimo festival di Venezia e anche in questo caso si parla di un film che non sono riuscito a vedere perché l'unico cinema che lo proiettava era a Napoli avrei voluto ritagliarmi un po' di tempo per recuperarlo ma non ci sono riuscito mannaggia e per finire The Killer l'ultimo film di David Fincher con protagonista Michael Fassbender qui in Italia The Killer non è mai uscito al cinema ma direttamente su Netflix e devo dire che questa cosa mi ha dato veramente fastidio perché lasciamo stare i film che magari suono un po' un po' del cazzo che vabbè che escano su Netflix non ti cambia niente ma qua si sta parlando di David Fincher che non esce al cinema David Fincher è veramente una vergogna secondo me o meglio ho avuto una piccola distribuzione cinematografica ma ovviamente come è successo in altre produzioni Netflix è per pochissimi giorni è in un solo cinema quindi il problema sussiste ancora ed è sempre vergognoso e voi che dite non era meglio farlo uscire al cinema? Benissimo ragazzi il video finisce qui quali sono i film che non avete visto in questo 2023? Fatemelo sapere con un commento qua sotto vi ricordo ancora di lasciare un bel like e soprattutto di iscrivervi al canale e attivare la campanella noi ci vediamo alla prossima ciao